Emons Record Emons Record presenta Il più amato dagli italiani La storia di Sandro Pertini in sette puntate Scritta da Massimiliano Di Giorgio e Giorgio Cappozzo Episodio 1 Il presidente tifoso Quella del 1982 è un'estate di passione in Italia La nazionale di calcio è impegnata nel mondiale in Spagna Cominciato a metà giugno La squadra, guidata dal commissario tecnico Enzo Bearzot Detto il Vecio Passa a fatica il primo turno Anche se ha di fronte avversari poco temibili Il Perù, il Camerun e la Polonia La nazionale fa solo pareggi E si qualifica soltanto grazie alla differenza reti L'arrivo degli azzurri in Spagna era stato già accompagnato dalle polemiche Perché Bearzot aveva escluso alcuni giocatori importanti della Roma E aveva convocato Paolo Rossi Rossi ha giocato con il Vicenza, il Perugia e soprattutto la Juventus Il suo cartellino ha avuto una valutazione da record per l'epoca Oltre 5 miliardi di lire nel 1978 Ma nel 1980 è stato squalificato per due anni Per una delle tante vicende italiane di calcio scommesse Anche se ha sempre proclamato la sua innocenza Nelle prime partite Paolo Rossi gioca male In campo sembra un fantasma Come la nazionale Anche la politica italiana intanto Attraversa una fase confusa Al governo c'è il leader del Partito Repubblicano Giovanni Spadolini Il primo presidente del Consiglio non democristiano Dalla fine del 1945 Spadolini Che viene dal giornalismo Ed è stato anche direttore del Corriere della Sera È arrivato a Palazzo Chigi un anno prima Nell'estate del 1981 Guida un pentapartito Come si diceva allora Composto da democrazia cristiana Partito socialista Partito socialdemocratico Partito liberale E partito repubblicano All'opposizione ci sono Il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer I radicali di Marco Pannella E un piccolo partito di estrema sinistra Mentre a destra C'è il Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante In pratica il Partito dei Nostalgici del Fascismo Siamo nel pieno Di quella che gli storici chiamano Prima Repubblica Nell'estate del 1982 Il governo è diviso sulla necessità Di imporre una serie di tagli e sacrifici Per far fronte alla crisi economica L'inflazione è a livelli record Il prodotto interno lordo non cresce Il debito pubblico supera i limiti di guardia E lo spread con la Germania dell'Ovest Perché il muro di Berlino Non era ancora caduto E le Germanie erano ancora due È a livelli stratosferici Oltre mille punti base Lo storico Sandro Marucci Ci racconta quell'anno così Sfogliando i quotidiani del 1982 Ci si accorge che l'Italia in quel momento Aveva una finanza pubblica completamente fuori controllo Scrivevano allora i grandi giornalisti economici Che l'economia italiana Ha condiviso con quella internazionale L'amarezza della recessione Ma non il successo di aver sconfitto l'inflazione L'Italia nel 1982 entrava per il secondo anno consecutivo In una condizione di stagnazione La cassa integrazione era in crescita esponenziale L'occupazione era in calo da due anni Il tasso di disoccupazione aveva raggiunto il 10% Gli investimenti erano scesi Il costo della vita nel 1982 Aveva registrato sì un certo declino Ma comunque il tasso era comunque del 16,5% E soprattutto era aumentato il divario rispetto agli altri paesi Che invece avevano ottenuto grandi successi Grandi progressi nella riduzione del livello dei prezzi Se pensiamo ai paesi industrializzati E tre grandi paesi industrializzati Gli Stati Uniti, la Germania e il Giappone Esse avevano ricondotto l'inflazione ai livelli precedenti Le due crisi petrolifere Insomma l'Italia era in una condizione drammatica Basta ricordare che sia le spese che le entrate In soli 4 anni dal 79 all'83 Erano addirittura triplicate La spesa era cresciuta di circa 8 punti E anche il prelevo fiscale era aumentato di oltre 7 punti L'82 è davvero un anno straordinario dal punto di vista economico E proprio in quell'anno prevale nella classe politica E anche sindacale del paese Una certa insensibilità Di fronte a politiche di controllo serio, rigoroso Dei conti pubblici Spadolini è stato nominato a capo del governo Da un presidente della Repubblica estremamente popolare Un socialista Anzi, il primo socialista nella storia italiana A salire al Quirinale Il presidente è Alessandro Giuseppe Antonio Pertini Ma per tutti è Sandro Pertini Pertini ha quasi 86 anni È nato in un piccolo paese Tra le colline e le montagne della Liguria San Giovanni Stella Ha combattuto nella prima guerra mondiale E gli hanno dato una medaglia per il suo valore Ha combattuto anche il fascismo È stato condannato sei volte Per ben due volte è sfuggito alla morte È un eroe della guerra partigiana Cittadini, lavoratori Scioppero generale contro l'occupazione tedesca Contro la guerra fascista Per la salvezza delle nostre terre Delle nostre case Delle nostre officine Come a Genova e a Torino Ponete i tedeschi di fronte al dilemma A rendersi operire Pertini è stato eletto già da quattro anni L'8 luglio 1978 Dopo le dimissioni del presidente Giovanni Leone In uno dei momenti più complicati Della storia politica italiana Che pure già ne ha vissuti parecchi Pertini Pertini Soplamo eletto presidente della Repubblica L'onorevole Sandro Pertini Tutta la nostra giovinezza Abbiamo gettato nella lotta Senza badare a rinunce Per riconquistare la libertà perduta Ma se a me socialista da sempre Offrissero la più radicale Delle riforme sociali A prezzo della libertà Io la rifiuterei Perché la libertà Non può mai essere barata Pertini Un uomo di sinistra È il presidente eletto Col maggior numero di voti In Parlamento Della storia della Repubblica È stato per otto anni Presidente della Camera dei Deputati Cioè la terza carica dello Stato È stato eletto per la prima volta In Parlamento Nel 1946 Per 21 anni Ha diretto Il Lavoro Un importante quotidiano di Genova Insomma Non è un volto nuovo Ma ha un modo di fare diretto Gli piace stare in piazza E tra il popolo Ma lasciamo la parola nuovamente A Sandro Marucci Nel 1982 Sandro Pertini È ormai da 4 anni Il presidente degli italiani Era stato eletto nel giugno del 78 Nella maggioranza molto ampia Al sedicesimo scrutinio In un'Italia Devastata dal terrorismo Ma non era un volto di primo piano Della politica del paese Non aveva alle spalle In carichi governativi O ministeriali Era stato sì Presidente della Camera Ma nel 76 Quando lascia il testimone A Pietro Ingrao Ha ormai 80 anni E sembra un politico Destinato al viale del tramonto Eppure gli italiani Percepiscono subito Soprattutto nella comunicazione Un fatto nuovo Nella presidenza della Repubblica Pertini è presidenzialista Non nasconde le sue emozioni Dichiara che non c'è discontinuità Tra il suo passato Da partigiano Da antifascista E il nuovo incarico Che sta per ricoprire Dichiara subito Di voler continuare Ad essere un italiano comune Durante il suo primo viaggio Fuori dai confini nazionali In Germania Tra i lavoratori immigrati Dichiara di essere lì Non come presidente della Repubblica Ma come capo Di tutte le famiglie italiane Insomma Vuole entrare nel cuore del paese Il primo messaggio Di fine anno Sconvolge completamente Delle consuetudini presidenziali Pertini non si fa ritrarre Come i vecchi presidenti democristiani Dietro una scrivania Pronuncia un discorso Che sembra appunto Non imparata memoria Non recitato Si fa riprendere Dalle telecamere Seduto su una poltrona Con la famosa pipa tra le mani Parla della pace E affronta i problemi Che riguardano il paese E le speranze degli italiani Italiane e italiani Vi confesso Che io Non volevo Introdurmi Nell'intimità Delle vostre case In questo giorno In cui Festeggiate Il sorgere Dell'anno Nuovo Ma Il mio silenzio Sarebbe stato Male interpretato E quindi Ho seguito il consiglio Dei miei devoti Collaboratori Ed eccomi quindi Dinanzi a voi Per augurarvi Il buon anno Io mi rivolgo Non separatamente Come è stato fatto nel passato Prima Agli italiani Che sono all'estero E agli italiani Che sono in Italia Mi rivolgo Contemporaneamente Agli uni E agli altri Perché gli italiani Che sono all'estero Gli emigrati Non sono andati all'estero Per divertimento Per diporto Sono andati all'estero Spinti dalla miseria E spinti dalla fame Per trovare un lavoro Che purtroppo Non sono riuscito A trovare qui In patria È un cambiamento Notevole Nella comunicazione politica Forse Fertini È il primo Che ha capito Lo scollamento Tra il paese reale E il sistema Dei partiti La popolarità Cresce mese dopo mese Nell'80 A Bologna Durante i funerali Delle vittime Della strage Del 2 agosto È l'unico politico Ad essere applaudito Durante il terremoto In Irpinia Si unisce Agli italiani Nella critica Al governo Per i ritardi Nei soccorsi Insomma Pertini Ha avvocolto Appunto Questa distanza Che si era creata Questo vuoto Che si era creato Tra il paese E la società politica E cerca in ogni Circostanza Di colmarlo Attraverso la sua Presenza fisica L'idea di candidare Sandro Pertini Al Quirinale È di Bettino Craxi Segretario del Partito Socialista Da un paio d'anni Che riesce a imporlo All'ADC Dopo che le prime 15 votazioni Per eleggere Il nuovo capo Dello Stato Sono andate a vuoto Craxi È un giovane Leader ambizioso La sua missione È quella di portare Il Partito Socialista Fuori dalla crisi Fargli recuperare voti Dopo la sconfitta elettorale Del 1976 E prestigio Alla fine Pertini viene votato Anche dal Partito Comunista Italiano Di Enrico Berlinguer Che è all'opposizione E non ama affatto Craxi Ma la figura E la storia di Pertini Vincono ogni dubbio Pertini non abita Al Quirinale Ma è in un piccolo appartamento Appena 40 metri quadrati Che si affaccia Sulla fontana di Trevi Con la moglie Carla Voltolina Un'ex partigiana Che ha 25 anni Meno di lui E che ha conosciuto Nel 1944 E lì Pertini Tiene anche La sua vasta E famosa Collezione di pipe La casa in cui La coppia vive In affitto È del comune Se fosse accaduto oggi Sarebbe stato Uno scandalo Catene su Facebook Talk show Titoli sui giornali Interrogazioni parlamentari Denunce alla Corte dei Conti Ma non succede Nulla del genere Agli italiani La scelta controcorrente Del presidente Di non restare nel palazzo Come Pierpaolo Pasolini Chiamava gli edifici del potere Piace molto Agli italiani Piace anche La coppia presidenziale Così poco istituzionale Giornalista parlamentare Dopo la guerra Carla Voltolina Considerata una donna Stravagante Un po' burbera Lascia l'incarico Quando il marito Viene eletto Presidente della Camera Studia scienze politiche E poi psicologia E va a lavorare Nel reparto psichiatrico Di un ospedale di Roma Raccontano Che quando qualcuno La ferma per strada Per chiederle Se non è lei La moglie del presidente Pertini Risponda così Guardi Me lo dicono tutti Ma ci assomigliamo soltanto Pertini Non ha mai preso la patente È Carla Che lo porta in giro Sulla sua Fiat 500 rossa E Carla Continua a restare Nell'ombra Dopo che Pertini Sale al Quirinale Sio Vobis Gaudium Magnum Abbiamo Papa Pertini Ateo e socialista Diventa anche amico Del nuovo Papa Il polacco Karol Wojtyla Eletto al soglio pontificio Il 16 ottobre 1978 Due mesi dopo Il suo giuramento Da presidente Col nome di Giovanni Paolo II Divisi sulla religione E sull'ideologia E anche dall'anagrafe Visto che il Papa Ha quasi 25 anni In meno del presidente Pertini e Vojtyla Sono uniti però Dal fatto di aver lottato Entrambi Contro la dittatura Uno contro il fascismo L'altro contro il comunismo Tutti e due Danno forte valore All'amicizia Hanno un carattere Estroverso Amano stare tra la folla E tra i giovani Mentre non amano Molto i cerimoniali La loro amicizia Spingerà A un certo punto Pertini A confessare al Papa Di aver ucciso Un uomo Durante la resistenza E di provare ancora sofferenza Dopo tanti anni Ma torniamo al 1982 E al Mundial in Spagna A fine giugno Gli azzurri si risvegliano Dal torpore Anche grazie a Paolo Rossi Che trova finalmente Il suo riscatto Allo stadio Sarrià Di Barcellona L'Italia batte L'Argentina Poi Il 5 luglio Gli azzurri Affrontano il Brasile La partita comincia Con un certo nervosismo Per l'Italia I tifosi brasiliani Riempiono lo stadio Dei loro cori Mentre durante L'ino nazionale italiano Quasi nessuno canta Ma è Paolo Rossi A cambiare la situazione Grazie a un cross Di Antonio Cabrini Do lato scherdo Cabrini si approssimò Curiosamente Perigoso GOOOOOOOL Di Paolo Rossi Para Italia Ne nasce una partita Entusiasmante Che finisce 3 a 2 Per l'Italia Grazie a Dino Zoff Che para un tiro Sulla linea della porta Proprio all'ultimo secondo Rossi Che firma tutte e tre Le reti azzurre Dopo quell'avventura In Spagna Sarà soprannominato Pablito A quel punto L'Italia Che non vince un mondiale Dal 1938 Crede ormai Alla vittoria Ogni partita È l'occasione In tante città Per sfilare in corteo Con la bandiera tricolore E fare festa L'8 luglio Nel mitico Camp Nou Di Barcellona Gli azzurri Incontrano di nuovo La nazionale polacca Di Zibi Boniek La prima partita La prima partita La polizia spagnola Le rimuove Ma per cinque lunghi minuti Il pubblico Scandisce lo slogan Solidaridad Polonia In diretta tv Alla fine di una partita Poco interessante L'Italia si avvia Alla finale Di domenica 11 luglio A Madrid Contro la Germania Ovest In Italia Il giorno prima Sabato 10 luglio I partiti di maggioranza Sono riusciti A trovare Finalmente Un accordo E il governo Spadolini Ottiene di nuovo La fiducia Del Parlamento La maggioranza Che sostiene Spadolini Comunque Non durerà Che poche altre settimane Dopo uno scontro Tra i ministri economici Del partito socialista E della democrazia cristiana Spadolini Darà le dimissioni Il 7 agosto La mattina Dell'11 luglio Pertini Vola a Madrid Per la finale Che si gioca Alle 20 Le 21 In Italia Come nello stile Del presidente È una decisione Praticamente a sorpresa Anche il presidente Del consiglio Spadolini Vorrebbe andare Ma è proprio Il Quirinale A suggerirgli Di restare a Roma C'è da pensare Alla stabilità Del governo In compenso Due ministri Arrivano Con normali voli Di linea Arrivato a Madrid Accompagnato Da un pugno Di giornalisti Allertati All'ultimo minuto Va subito A trovare gli azzurri Al goleador Rossi raccomanda I tedeschi Sono robusti Cerca di non farti Pestare i piedi Pertini Vedrà la partita In tribuna Accanto al giovane Re spagnolo Juan Carlos E al cancelliere Tedesco Helmut Schmidt L'Italia vince 3 a 1 Segnano Rossi Marco Tardelli E Alessandro Altobelli Tutti i gol Sono concentrati Nel secondo tempo Pertini È quasi sempre In piedi Più tardi Racconterà Che quel momento È stato probabilmente Il più bello Della sua presidenza Io a ogni gol Che segnavo Non stavo seduto Come voleva il protocollo Mi alzavo E mi scatenavo Ad applaudire Mentre ripeto Il re di Spagna Applaudiva Un po' di nascosto Perché c'era Smith Tutto nero in volto Perché stava perdendo La strada italiana Dopo la partita Col solito strappo Al protocollo Pertini evita Il ricevimento ufficiale All'ambasciata a Madrid E va invece A festeggiare Con il suo staff In un tablao Un locale Dove si assiste A spettacoli di flamenco E si cena Pertini è contento Ordina un piatto Pieno di aglio Scherza sul fatto Che tanto a tavola Non ci sono signore Da baciare Il giorno dopo Pertini carica La nazionale Sull'aereo presidenziale E torna a Roma Se fosse successo Oggi Potete immaginare Quali e quante Sarebbero state Le polemiche Le proteste Invece All'aeroporto di Ciampino A migliaia Attendono i giocatori E l'Italia Scende in strada Per festeggiare i campioni L'aereo Su cui viaggiava Pertini Un 19 Di proprietà Della L'Italia È entrato nella storia Ed è ora Al museo Dell'aeronautica In volo Il presidente Gioca a scopone Con Dino Zoff Contro Bearzot E Franco Causio Perde Perché si è lasciato Sfuggire un 7 E si arrabbia Le immagini Di quella partita Sono un pezzo di storia Anche della tv Pertini che alza Le braccia al cielo Che urla Ormai non ci riprendono più Come se fosse il film Fuga per la vittoria Lui Che è sfuggito Ai nazisti Dal carcere Di Regina Celi Nella Roma Del 1944 Avete ascoltato Il più amato Il più amato dagli italiani La storia di Sandro Pertini In 7 puntate Un podcast Di Massimiliano Di Giorgio E Giorgio Cappozzo Voce narrante Marco Cavalcoli Editing Sound Design Elisa Nancy Natali Editing 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 Editing